sono daniele carradori il cognome dello psicoanalista mia moglie si lei è il figlio di letizia calabro e probo carrera sposato con marina molitor allora ho ritenuto la situazione di marina molto grave è vero che lei è sempre stato innamorato di luisa lattes noi ci vediamo ci scriviamo ma non è una relazione soprattutto non è infideltà coniugale è una cosa nostra che non saprei neanche come definire dispiace doverglielo dire ma il suo matrimonio è finito da un pezzo quando ho sempre amato con l'altro se il paragone di ogni relazione che ho avuto ma siccome la nostra non esiste vince vince sempre se sono scappato l'ho fatto nella direzione sbagliata non è che sai sempre che fai bene quando fai male nel male tu a tu del male per 40 anni che sei stata la parima e l'ultima immagine per 40 anni sono mai stata felice con te sono mai stata fedele tutti poveri tranne io sei davvero il colibrio di tutta la tua immagina per restare dove sei pensi davvero che questo sacrificio cambi qualcosa